L'Elba, in particolare il territorio comunale di Portoferraio, sono stati scelti insieme ad altre aree toscane per realizzare il progetto Bambini e Comunità promosso da Ampas Toscana con il sostegno della Regione, dell'Università degli Studi di Firenze. Il progetto ha lo scopo di individuare azioni mirate per ridurre i fattori di rischio e le criticità relative alla vita dei bambini e le loro famiglie. Molti i servizi erogati a sostegno del mondo dei più piccoli spiegano dall'Ampas ma in alcune fasce d'età i giovani restano scoperti. E là dove anche la famiglia da sola non ce la fa bisogna intervenire. La Croce Verde di Portoferraio ha aderito al progetto di studio i cui risultati sono stati presentati sabato pomeriggio nella saletta della Gran Guardia. I servizi, quindi delle risposte a livello sociale per i minori di questa fasce d'età in un certo senso ci sono ma si può lavorare nel migliorarlo e nel offrire delle risposte in un'ottica di rete, di servizi in un'ottica integrata. La Croce Verde si auspica di poter attivare un passo successivo per creare poi concretamente un calendario di attività ludiche, laboratori creativi o dopo scuola di assistenza allo svolgimento dei compiti per i bambini e per le famiglie che appunto non riescono o hanno delle difficoltà nel seguire i loro figli. Grazie.